Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo la prima maglia della Liliad per la nuova stagione in edizione fan. Ovviamente la maglia l'avete riconosciuta di Neymar. Grazie per la visione! Tutti questi campioni stanno rendendo il campionato dell'Arabia un campionato sicuramente molto interessante. Neymar è uno degli ultimi arrivati e questa maglia è veramente molto bella. Il costo lo vedete qui sopra? Beh, fate voi le vostre valutazioni, però veramente interessante. Qua sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Andate a vedere questa e altre splendide offerte che vi attendono. Ora vi lascio la parte finale. Se però volete vedere altre recensioni come questa, mi raccomando, iscrivetevi al canale! Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. della versione fan. Ciao! 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 Grazie.